raga non so perché ma sembra che ho un tipo un braccio boh big enorme e bello a tutti quanti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video beh ragazzi oggi andiamo a fare subito la challenge quella dei marshmallow e in poche parole dovremmo dire un chubby bunny, due chubby bunny, tre chubby bunny e così via e chi avrà più marshmallow in bocca vincerà quindi andiamo, partiamo e let's go pensavo che era un po' più semplice, un chubby bunny due chubby bunny due chubby bunny tre chubby bunny a quanto sei? a quattro? devi dire quattro chubby bunny circa quattro chubby bunny cinque chubby bunny quanto? devi dirlo con la bocca non riesci a dirlo quanto? devi dire sei chubby bunny dillo mi sa che ci verranno qua sai chubby bunny devi dirlo quanto sei? cinque o sei? dillo ok più o meno che cosa sia? sono? mi sa che ci erano qua non riesce a dirlo non riesce a dirlo Voglio Vino. No-no. Ancina Sambifilia? No-no. Vedi dat nove Sambifilia? No-no. Vedi dat nove Sambifilia? No-no-no. Ah, che ti sei venire? No, inilio. Inilio? Ancina. L'altra parte da casa, come. C'è un montaggio? T'è un montaggio? Dovah! No! No! D'acquick l'indicazione! No, non! Non ci siamo montagni! Noi 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 È impossibile Ha vinto ragazzi Ha vinto 12 ciabibani Io ne ho fatti 10 Boh assurdissimo Impossible Due sui li buttati via Ma tu sei anche riuscito a mangiarli? Ma che cazzo? Beh raga io Se c'è qualcuno che pensa di batterla Ve la faccio sfidare C'era abassurde Come cazzo è possibile? Boh Cioè abbiamo appena visto un video cazzo Di due ragazze che stavano scoppiando con 5 Cioè non lo so Ne abbiamo fatto il doppio Ma lei Boh Una cazza superiore Cazzo dovevo fare? Non riuscivo neanche a fare niente Mi sono atteso Vabbè Vabbè ragazzi Sfida Legendaria Mi vado subito a pulire le mani Che ce l'ho Tutte Piene di zuccherino Robbe Non lo so Sono tutte appiccicose Noi ci becchiamo comunque In un prossimo video Spero che questo video vi sia piaciuto Se volete sfidare Giada Ragazzi Ce lo scrivete nei commenti Che così Vi possiamo preparare una sfida Magari la facciamo su Discord Quindi Noi ci becchiamo in un prossimo video E bello a tutti quanti ragazzi